L'amministrazione provinciale di Crotone in relazione agli interventi prioritari nel settore della viabilità provinciale volti al ripristino delle condizioni di transitabilità in sicurezza di alcuni tratti delle arterie provinciali di cui al decreto di finanziamento della regione Calabria del 7 dicembre 2017 ed acquisito al protocollo provinciale del 14 dicembre 2017 porta a conoscenza della collettività provinciale che è attualmente in corso da parte della commissione esaminatrice la verifica della documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti alle gare e che presumibilmente avrà termine entro fine mese. La contrattualizzazione e quindi la consegna dei lavori medesimi arriverà a partire dal mese di marzo prossimo tenuto conto peraltro che le basse temperature della stagione invernale renderebbero comunque inopportune le fasi di bitumazione previste dai lavori medesimi. Continua dunque incessantemente nonostante il momento particolarmente complicato che sta attraversando questo ente il lavoro volto a mantenere gli impegni già assunti al fine di garantire nei limiti delle possibilità il miglior livello di percorribilità della rete viaria provinciale a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini che giornalmente la percorrono.